ciao ragazzi benvenuti un enorme grazie perché dopo il video del compressore stale sto avendo molte molte soddisfazioni stimolato da questo sono qui a condividere con voi un altro prodotto del mio laboratorio né bosch né altri sponsorizza questo video sono qui semplicemente perché vorrei fartelo conoscere e penso che se tu stai guardando questo video sono due le cose o ti hanno regalato il trapano e cerchi informazioni o cerchi informazioni perché sarà il tuo prossimo acquisto io adesso cercherò di descrivertelo un po rapidamente compatto costruito con materiali di qualità ottimo grip nella presa peso importante arriviamo anche a un chilo compreso di batteria è un trapano avvitatore da 30 newton metro che nel laboratorio di un fai da te va benissimo perché non è che dobbiamo bugare i muri è un bosch professional linea blu per intenderci il modello è GSR12V15 la scritta in rilievo nella parte laterale del trapano con al centro il pulsante di selezione di rotazione del bandrino spingendo verso sinistra il trapano girerà in senso orario nella parte opposta anti orario mettendolo al centro eviteremo che spingendo l'interruttore involontariamente il trapano non parta a fianco al pulsante ciovo l'icona di batteria che premuto in una qualsiasi posizione della rotazione del trapano ci indicherà il livello di batteria nella parte inferiore sotto al mandrino troveremo un led che indicherà illuminerà la parte che stiamo lavorando vicino al mandrino abbiamo una corona che divisa in 20 posizioni che è la coppia di serraggio per avvitare le viti e bulloni poi un'ulteriore icona di punta di trapano a indicare il trapano pronto alla furatura parte superiore del trapano il selettore di velocità 1 o 2 e nella parte inferiore abbiamo la batteria da 12V 2mA al litio estraibile ricaricabile a parte e facile di facile montaggio detto questo possiamo aggiungere che la punta massima che si può serrare a questo mandrino è da 10 mm e la prima velocità va da 0 a 400 giri al minuto e nella seconda velocità da 0 a 1300 giri al minuto adesso farò un paio di prove qualcosa già ho fatto come potete vedere i trucidi di legno perché non volevo fare brutta figura con voi chiedo sempre scusa perché cambierò posizione perché sto registrando con un device e per evitare che i video diventano lunghi e noiosi adesso per vedere come si comporta abbiamo messo due pezzi di legno abbiamo montato una punta per il legno da 4 mm abbiamo selezionato velocità 2 e livello di batteria e 2 posizioni su 3 selezioniamo la rotazione di orario e siamo pronti per forare in pochi secondi abbiamo eseguito il foro adesso per accelerare i tempi ho sostituito la punta per il legno però con una punta a tazza foster da 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 25 mm eseguiremo lo stesso foro stessa velocità 2 stessa potenza di batteria eseguiremo il foro che dire secondo me lavora benissimo è un ottimo prodotto e prodotto consigliatissimo ragazzi fatemi sapere se l'avete acquistato cosa ne pensate se vi è stato utile il video vi rimando alla prossima volta ringrazio tutti ciao ciao